Un saluto a tutti gli amici, peggiore al tempo nella giornata di venerdì 6 ottobre a causa del cedimento dell'anticiclone responsabile del bel tempo negli ultimi giorni su molte regioni italiane. Attendiamoci quindi nuove piogge e rovesci sulla nostra perisola, specialmente dalla seconda parte della giornata. Ma vediamo il dettaglio della previsione con l'ascilio della grafica a campo. Al mattino nubi sparse sulle regioni centrosettentrionali con le prime piogge sul Veneto e sul Friuli, più soleggiata al sud e sulle isole maggiori. Peggiore il tempo nel corso del pomeriggio sulle regioni andreatiche e sui settori interni peninsulari con piogge e locali temporali, qualche isolato rovescio possibile anche tra l'Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia, altrove invece tempo più stabile e soleggiato. In serata insistono i fenomeni sulle regioni centro-meridionali, eccetto in Toscana, Calandria e isole maggiori. Migliora il tempo poi notata, salvo delle residui piogge sulle regioni più meridionali. E prima di salutarci diamo uno sguardo anche alle temperature. Valori previsti in Calo sulle regioni di nord-est e sulle regioni adriati, stabili altrove. E anche per oggi abbiamo concluso con le previsioni del tempo tutti gli aggiornamenti sulla tua città visualizzabili tramite la nostra app Meteo.